Ma lo scivolone più clamoroso è quello di Amadeus in coda i saluti finali di Mezzogiorno in Famiglia. Si canta Vorrei la pelle nera e sentite la sua versione! Buon appetito, ciao! Cos'è che vuole Amadeus? Abbiamo capito bene! Abbiamo capito benissimo! Altro che Mezzogiorno in Famiglia! Questo sta diventando un programma vietato ai minori! Non si parla d'altro! Già c'era il maestro Mazza! Ora pure questo!